Il Gallo a Belotti. Occhio qui, può far male alla difesa. Palo si continua a giocare. Belotti! E c'è il gol! Meraviglioso in acrobazia! E la regia ci rimanda l'azione del gol. Sì, da sottolineare il cross con cui hanno preso la sprovvista la difesa avversaria. Non impeccabile il portiere in questa occasione. Si è fatto infilare lì sul suo palo. 3 a 2 partita. 3 a 2 partita. 5 a 2 partita.